Philosophy for Children, Matthew Lipman Filosofia per bambini è un progetto pedagogico creato alla metà degli anni 1970 dal filosofo e pedagogista americano Matthew Lipman. Lo vediamo in foto. Lipman, nato negli Stati Uniti il 24 agosto del 1922 nel New Jersey, è stato professore alla Columbia University e poi ha svolto diversi altri incarichi collegati al progetto di cui stiamo parlando. È morto il 26 dicembre del 2010, sempre in New Jersey. Il suo lavoro di filosofia per bambini è stato applicato in più di 50 paesi in tutto il mondo. Secondo Lipman, nella didattica tradizionale si potenzia l'insegnamento meccanico, trascurando le capacità logiche di ragionamento degli individui, dei bambini. Per questo motivo ha creato questo progetto di filosofia per bambini per sviluppare in ediscenti le facoltà del pensiero riflessivo, creativo, argomentativo e logico. L'obiettivo finale del suo lavoro era sviluppare un progetto didattico in grado di stimolare ragione e pensiero critico. Per nutrire e affinare il pensiero, Lipman auspica che l'insegnamento della filosofia sia esteso a tutti gli ordini scolastici. Questo che vediamo a fianco è uno dei libri tradotti in Italia, da Vita e pensiero, dalla casa editrice Vita e pensiero, è intitolato Educare al pensiero. Il presupposto psicopedagogico dell'idea del progetto di Lipman è che la pratica del filosofare consente di sviluppare sin dall'infanzia un insieme di abilità intellettive, tra cui il ragionamento, la capacità di creare dei concetti, l'abilità di analizzare le argomentazioni proprie ed altrui al fine di scoprirne le fallace, sviluppare abilità dialogiche imparando a collocarsi nell'altrui punto di vista e a cooperare per cooperare nella ricerca comune del significato di una determinata, su un determinato tema, argomento, è di regolare il proprio comportamento. Lipman ha creato dei testi in modo tale che i discenti stimolino le abilità di pensiero che abbiamo detto a partire dalla discussione di temi coinvolgenti come verità, amicizia, bellezza. e i materiali di cui abbiamo detto sono il prisma dei perché che vediamo in foto, un altro libro si intitola Lisa, Pixie, con un linguaggio accessibile ai ragazzi sia dell'elementare che della scuola media. i testi contengono delle narrazioni di ragazzi giovani, che sono i protagonisti, da cui emergono determinati argomenti che poi possono essere discussi in classe. Tra i vari protagonisti c'è ad esempio Aristide, che esemplifica uno stile di pensiero aperto alla riflessione e alla ricerca, Toni, che è il logico del gruppo e manifesta un approccio matematico ai problemi, Lisa, in persona la creatività del pensiero, e inoltre sono presenti gli emarginati Francesco e Daniele, il conformista Guglielmo e il trasgressivo Marco. Come dicevamo, attraverso la lettura e la riflessione sui libri che ha creato Lipman, nel discente si crea un processo di proiezione e di identificazione e questo è uno spunto su cui si può riflettere e si può attivare un dialogo in classe in modo tale che si possa dare luogo a quel fenomeno che si chiama metacognizione attraverso cui i discenti possono stimolare le abilità di pensiero di cui abbiamo parlato.